La Procura federale contesta al Teramo la responsabilità diretta legata al presidente Luciano Campitelli e la responsabilità oggettiva imputabile al direttore sportivo Marcello Di Giuseppe. Sono arrivate nel tardo pomeriggio di ieri le notifiche di chiusura delle indagini degli uomini del procuratore Stefano Palazzi e sul fronte Teramo non ci sono sostanziali novità. Dopo tutto al patrone biancorosso lo scorso giugno era stato notificato l'avviso di garanzia proprio per il caso della presunta combine di Savona Teramo ed era logico che anche a seguito delle ulteriori indagini portate avanti dai federali si palesasse la contestazione della responsabilità diretta del club oltre che quella oggettiva. Semmai la novità arriva sul fronte Savona anche in questo caso Palazzi contesta la responsabilità diretta per il coinvolgimento di Aldo Delle Piane che da pochi giorni non è più presidente del club Ligure ma lo era all'epoca dei fatti. Il nome di Delle Piane finora non era mai uscito men che meno nel flusso di intercettazioni trascritte nell'informativa della mobile di Catanzaro. Sempre per il Savona contestata la responsabilità oggettiva per il coinvolgimento dell'ex consulente esterno Marco Barghigiani. Contestata l'omessa denuncia all'altro ex consulente esterno savonese Enrico Cenicola e al difensore del Savona Marco Cabeccia e qui sovviene l'altra particolarità. Mancano notifiche per illecito ai calciatori del Savona. Nessuna contestazione è stata mossa ad Alessandro Marchetti il giocatore che secondo la ricostruzione dell'accusa si sarebbe rifiutato di incontrare il concittadino calciatore Davide Matteini e poi di rispondergli al telefono. Fuori causa anche i calciatori convocati in procura e ascoltati la settimana scorsa Fabio Eguelfi e Jacopo Galimberti. In sostanza la procura federale ritiene che la partita sia stata combinata addirittura con il coinvolgimento dei due legali rappresentanti delle società ma non ha elementi sufficienti per contestare un comportamento illecito durante la gara di un solo tesserato del Savona. Non li ha perché non ci sono in assoluto o perché la celerità imposta dei tempi ristretti per le sentenze che interessano società calcistiche e quindi la missione in un campionato piuttosto che un altro rende necessario valutare subito il comportamento dei dirigenti rimandando ad un secondo momento la valutazione dei calciatori o magari la procura ha in mano altro materiale rispetto a quanto già emerso e saranno armi da utilizzare in dibattimento. Questo non è chiaro. Il quadro della gara del 2 maggio si completa con la responsabilità oggettiva contestata all'Aquila Calcio per Ercole Di Nicola, al Barletta per Nini Corda, al San Paolo Padova per Davide Matteini. Notificati gli avvisi anche a Giuliano Pesce, indagato per Savona Teramo e Fabio Di Lauro, finito agli arresti per il filone madre di Dirty Soccer. Per tutti ci saranno 48 ore di tempo per depositare memoria difensiva o chiedere di essere ascoltati in procura. Nel caso, la data delle audizioni è stata fissata per il prossimo 28 luglio, dopodiché scatterranno i deferimenti davanti alla disciplinare chiamata ad emettere la sentenza di primo grado entro i primi dieci giorni di agosto.